Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light, in questo video vediamo come scaricare e installare Ubuntu Linux in maniera completamente legale e gratuita. Me lo avete chiesto in molti, quindi eccolo qui, è veramente semplicissimo, ma comunque andiamo a vederlo insieme. Ci tengo a fare una precisazione prima di iniziare questo video. Io andrò ad installare questo sistema operativo su una macchina virtuale, proprio perché al momento non mi è possibile formattare un PC vero e proprio. Ma il procedimento che vedrete è completamente uguale, anche nel caso se voi voleste davvero installarlo come sistema operativo principale nel vostro PC. L'unica differenza è che dovrete seguire dei passaggi in più, che io purtroppo in questo video non vi farò vedere, ma che trovate in descrizione sotto questo video, in cui in passato feci un video in cui vi mostravo come installare in maniera pulita Windows 11. Con l'unica differenza è che voi quel procedimento lo potete seguire per qualunque sistema operativo. L'importante è che scarichiate l'ISO del sistema operativo che desiderate installare. Fatta questa premessa, se siete interessati ad installare questo sistema operativo, quindi Ubuntu Linux, come sistema operativo principale, guardate il video che vi lascio in descrizione. In più dovrete guardare anche questo, perché su questo vedrete come installarlo. Bene, iniziamo subito. Dobbiamo andare sul link che vi lascio in descrizione, sotto questo video, dove dovrete attendere 5 secondi e poi cliccare su Skip in alto. A questo punto vi appare questo sito, dove noi andremo a selezionare Ubuntu, il primo che ci appare, in basso Desktop e cliccheremo su Avvia il Download. Una volta fatto ci scaricherà l'ISO, quindi il sistema operativo. Una volta scaricato io avvio la macchina virtuale per farvi vedere come installarlo. Questo passaggio serve solamente a chi vuole installare il sistema operativo su una macchina virtuale. Io utilizzo il programma di VirtualBox per poterlo fare. Cliccherò su Nuova. Come nome gli do Ubuntu. La cartella della macchina la saltiamo, lasciamo così com'è. Tipo, ovviamente, Linux, già la riconosciuta. Versione Ubuntu 64 bit. Andiamo su Successivo. Come quantità di memoria gli diamo un 1500, va anche bene. Clicchiamo su Successivo. Crea subito un nuovo disco fisso virtuale, Crea. Lasciamo pure VDI, Successivo. Allocato dinamicamente, Successivo. Qui invece dobbiamo allocare più spazio, perché sono veramente pochi 10 da dare al nostro Linux. Vanno bene anche 27,89 giga. Clicchiamo su Crea. Perfetto. A questo punto selezioniamo il nostro Ubuntu. Clicchiamo su Avvia. Adesso clicchiamo sulla cartella, perché dobbiamo selezionare il file ISO. Andiamo su Aggiungi. Poi andiamo nella cartella, dove è presente il file ISO. Lo selezioniamo e clicchiamo su Apri. A questo punto lo selezioniamo anche qui e facciamo Scegli. Clicchiamo su Avvia. Adesso, ragazzi, vi parte l'installazione del sistema operativo. Premiamo Invio, dove c'è scritto Try or Install Ubuntu. Aspettiamo. A questo punto, ragazzi, vi carica l'installazione. Una volta caricata l'installazione, selezioniamo Italiano. Clicchiamo su Installa Ubuntu. Lasciamo qui così com'è, clicchiamo su Avanti. A questo punto, selezioniamo anche Installa software di terze parti per grafica, dispositivi Wi-Fi e formati multimediali aggiuntivi. Fatto questo, lasciamo il resto così com'è, clicchiamo su Avanti. Clicchiamo su Cancella il disco e Installa Ubuntu. E poi andiamo su Installa. Clicchiamo su Avanti. Nuovamente su Avanti. Adesso inseriamo i nostri dati personali. Quindi il nostro nome. Io mi chiamerò Mary. Per il resto ci pensa da solo il sistema operativo. Una password. E poi, una cosa molto importante, cliccate su Accedere automaticamente. Fatto questo, cliccate su Avanti. Adesso, ragazzi, inizierà l'installazione del sistema operativo. Quindi dovremmo attendere 5-10 minuti. Vi ricordo che potete installarlo sul vostro sistema operativo, senza la necessità di installarlo su una macchina virtuale, nel momento in cui vi dovesse servire. O perché semplicemente siete stanchi di Windows. Linux è un sistema operativo molto valido, soprattutto perché ha delle funzionalità gratuite che magari Windows non possiede. Vi faccio un esempio banalissimo. I programmi per l'Office. Lì l'Office è gratuito, mentre su Windows non lo è. Quindi di conseguenza, anche solo per questa banalità, a parer mio, Linux è migliore. Ma ci sono ovviamente anche dei difetti. Ad esempio, su Linux non è possibile installare giochi che sono compatibili con Windows. Quindi, insomma, dovete pensarci bene prima di installarlo. Come qualunque sistema operativo ha i suoi pro e i suoi contro. Però sicuramente un fattore che va assolutamente considerato in Linux è che è super leggero rispetto a Windows. Quindi, se magari avete un PC stra lento, Linux cerca di velocizzarlo. Una volta terminato, ragazzi, dobbiamo cliccare su Riavvia ora. Se utilizzate una macchina virtuale, come nel mio caso, ci metterà un po' a riavviarsi. Perché per qualche minuto si bloccherà. Voi comunque dovete aspettare che si chiuda automaticamente da solo. Se passa troppo tempo e vedete che la situazione appunto non si riavvia, dovrete chiudere e riaprire. Possiamo chiuderlo noi stessi manualmente senza avere problemi. Quindi andiamo sulla X in alto e clicchiamo su salvare lo stato della macchina. Ok. Aspettiamo. A questo punto riapriamo la nostra macchina virtuale. Selezioniamo ovviamente Ubuntu. Avvia. Aspettiamo che carichi. Anche se vi dà un errore, non preoccupatevi perché in realtà si sta per avviare. Adesso ci dice di premere invio. Lo facciamo. In modo tale che parti il nostro sistema operativo ben installato. Aspettiamo. Se la vostra interfaccia dovesse rimanere nera come in questo caso, noi ripremiamo invio. In modo tale che si avvii il nostro sistema operativo di Ubuntu. Benissimo ragazzi. Dopo un caricamento lungo di circa 3-4 minuti, ecco che si è avviato il nostro sistema operativo. In realtà si sta ancora ben avviando. Sta caricando le ultime cose. Qui clicchiamo su salta per il momento. Su non inviare informazioni di sistema successiva. Qui lasciamo pure disattivato. Successiva. Fatto. Adesso ragazzi, in pratica, questo è il nostro nuovo sistema operativo. Possiamo navigare su internet con Firefox. Controllare i vari file che sono all'interno del nostro nuovo sistema operativo. E tutto il resto. Anche LibreOffice che, come vi dicevo, sarebbe Office completamente gratuito. Mostra altre applicazioni. Troviamo davvero un'infinità di app. E nulla ragazzi. Tutto qua. Adesso finalmente potrete divertirvi. E per spegnere ovviamente la macchina virtuale. Se la state utilizzando, altrimenti se dovete semplicemente spegnere il computer perché avete installato questo sistema operativo sul vostro PC. Per spegnere il computer dovrete andare qui in alto e cliccare su spegni termina sessione. Poi cliccate su spegni e si spegnerà il computer. Se invece avete utilizzato una macchina virtuale, come nel mio caso, dovrete andare in alto a destra sulla X. Cliccare su salvare lo stato della macchina e poi su OK. Fatto questo, verrà salvato tutto quello che abbiamo fatto e possiamo utilizzare il nuovo sistema operativo tutte le volte che desideriamo. Detto questo, se poi non vi serve più, per cancellarlo dalla macchina virtuale dovrete fare semplicemente un tasto destro sul nome del sistema operativo, rimuovi. E poi cliccare su elimina tutti i file. Fatto questo, chiudete e avete fatto. Io spero che questo video vi è stato d'aiuto, se si lasciate un like. Ciao e alla prossima da MeriLight.